buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della biblioteca di brugherio in questo video tutorial vedremo come votare titoli che vi piacciono e lasciare eventualmente dei commenti ai titoli che vi piacciono su biblioclick partiamo sempre dalla ricerca di licia troisi e aprendo un titolo vedete che qui ha già dei voti ma non ha dei commenti qui sotto a sinistra possiamo dare il nostro voto o anche cancellarlo invece scendendo su commenti possiamo scrivere una recensione e se fleghiamo questa casella se qualcuno commenta alla nostra recensione o scrive una nuova recensione su questo titolo noi riceveremo una notifica queste recensioni oltre che essere visualizzate qui sotto il titolo vengono anche visualizzate nel vostro profilo pubblico ovviamente se ci ritorniamo sopra possiamo anche modificarla oppure eliminarla per accedere a tutte le discussioni in corso su biblioclick è sufficiente scrivere biblioclick slash community e in questo modo vediamo tutte le discussioni in corso sul portale ovviamente è possibile dare una votazione ai titoli e scrivere delle recensioni solo se ci siamo loggati a biblioclick vi diamo appuntamento al prossimo video tutorial per spiegarvi come fare a recuperare la password nel caso lo abbiate smarrita